Sono stata una stupida. E mi dispiace davvero. Sono felice che tu sia qui. Anch'io. E ho una sorpresa per te. Ma Econ, non sembri molto felice di prendere un cano? Abbiamo... dovuto sopprimerlo. Oh, mi dispiace. Ma io credo che... credo che Monti sarebbe contento se tu prendessi un nuovo cane. Che preferirebbe che tu non fossi solo. Forse hai ragione. Ma lui era... il mio migliore amico. E ingrandisca le immagini. E ingrandisca le immagini. E ingrandisca le immagini. E ingrandisca le immagini. Grazie. A presto. Voi? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao Sabino, ciao. Ciao, ciao. Allora? Niente da fare. Perremmo. Ma don Sabino, sabato mi hai detto la stessa cosa, di nuovo. Solo a me, se non è arrivata niente ancora. Lo scari, tu lo hai. Per 05? Le dure, le dure. Allora, Sabino, ho sigaretta, ma scennanza. Sarà me, ci diede. Nemmeno non ho più che un fumo, Tino. Un fumo. Sì, sabino un fumo. Cotto che non ho tirse, se ne va la carva unico. C'era più che un fumo, Sabino. Cotto che non ho tirse, se ne va la carva unico. Non beva. So che è vitto. Ciao, Sabino. Ciao, ciao. Ciao, Pio. Ciao, tate buona buona. E poi ti vediere più spesso. Bella dura, Sabino. Ehi. Beppina, tu stai? Adesso lo sto, uè. C'è, defo. Quando parlavo con i telefoni, eravamo già passato. Comunque... Pasquale è una nuova. Non credo che voglio fare. E ora mi fanno l'azbitizio? Sì, ma tu sai. Non mi fanno l'azbitizio. Non mi fanno l'azbitizio. Non mi fanno l'azbitizio. Se... E va? E si è fatto di me. E si è fatto. Ti uccanè fai appena. Oh, passi qua! Cosa dici? Non riesco a raccogliare. Ma raccogliare? Ma ci ricordi tu, eh? Quello, ma... Ma tu devi essere proprio stronti. Tu non ti mandi un contenitore. Tu devi vedere che c'è la roba e non c'è niente. Gli occhi, ti posso spiegare? Ma che cosa dici? Ci c'è un materiale, un materiale. E' la forma di contenitore. Non c'è una forma tecnica. Non c'è una forma tecnica. Ma non credo. Ma tu, si, praticamente ce n'è un mio palazzo. Ma qui, non ci oi? Non me ne devi fare questo. E io non mi caro la volta per te, ma non sei di più. Non sei così, ma tu, tu sei l'altro, tu sei la roba? Una roba, non? Non c'è la roba. E l'altro, che tu sei? Non c'è la roba. Ma che cosa guardi il mio palazzo? Non c'è la roba? Tu si è davanti? Non prendi la roba. Ma che cosa cosa dici? Ma che cosa dici? Lo va dire dire? E io lo vi ho lasciato la roba. E io il piede? ma vedi, vive è morto caro armato non si macchiate no no fa fumare che è un tiro so fatto e se tu da fumare non si facciamoci la brozza bella 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 ci volevi proprio ci hai cosa ha l'ho ma ci bella la sande che ti vedi che ti che ti sono 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 stai stai Stéva la vita sua, e mi faceva malo no Ganga, eh? Eh? Sono chuta nel dì di Milano. Non solo che s'africano, tu vede cinque, quando avrà lì per tramudè, per quanto che vuole puro chuter. Sono dita doveva, dammi un dritto, eh? E mi sono fatto dè, mi faccio n'importare a chi è. E da mio amico? Bumè che dò, mi manco dè, tu è? Eh, ti ha aperto per noi dè, dà vò, Aspanzio! Oh, le vete a subito dè, che è da porcare! Ecco, ecco io. Ecco, ecco che c'è, io in un morto, fammi du Pansaro. Facci qua qualche cosa. Eh, eh, ho passato è un per te adesso la pisa di Ray. Ma ecco, ecco che si torni, è giusto? Sei un chitto. Ma fai una partita o biglio degli altri? A partita? Una partita?! Andrei? Dobbiamo la sua biglio degli altri, no con la sua capa. Oh, buc'è, lì, ecco. Mi ha lasciato un prestito, che faccio un bello, bevo un bello, e se ne vedemmo un dare un bel, E c'è la belle statuette, ma scuole d'oro. Oh, Pino. Diamo un telefono. C'è la chiama. La chiama a chi? Beh. Allora, non? Pronto? Pronto. C'è? Oh, e voi ancora qui? Perché non siamo prima. E io, faccio il subito. Che noi, a voi stiamo aspettando? Ma io, che non siamo a fatti ghetto. Sì, a fatti che ucazze. Faccio il subito, ho detto. Va bene, ora veniamo. Pronto? Oh, pronto. Oh, l'Aslandino, dai! Ehi! Pronto? Con me, sì, doveva fare in Google, eh. No, 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 non. C'è di? Oh, anche tu, te. Ehi! 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 Mimmo! No, pìì me! Tutto a posto, pìì! Tutto a... eh sì! Sì, ma andare a fare un piacere! Ci sei visto Pasquale Minoecchi? Eh Pasquale... no, non l'ho visto! Sì, sì! Ma la morta cateneita, come è questo che si è matto! E voi voi famate uno spettacolo! Uè, chi è di merda la morta cateneita! Voi vengono, ma come un amore? Quello che mi ha fatto? Non mi deve stare a prendere. Vengono, non lo vengono. Vengono, non lo vengono! Venite, non lo vengono! Vengono, vengono! Vengono, ma come ti faccio? Vengono, vengono. Vengono, vengono, vengono. Vengono, vengono, vengono! non c'è un muro in questa quale ne ti chiede da mare ma sei da un pancura tu hai non voglio accostare profagate non è vero il caso che non è vero il resto, non c'è un po' e qua, a perché non grazie non pi유 amor Ritmo in bacia a cosa, riga. Buonasera, guarda che bella gente che sta qua, guarda, fa un po' di documenti. Io, principale, il titolare chi è qua? Dite a me, è la stessa. Ho licenza d'esercizio, ne? Licenza. Pronta la licenza. Allora, c'è una fia? Eh? Ma dove stanno i videopoker? Eh, i videopoker? Dove tu troppo onesto, marescià? Onesto. Qua non ci sono videopoker, eh? Niente. Stai inut, marescià. Faccio non credere, eh? Marescià, io sto dipendente, non faccio inut. Eh, ma qui, mi piace? Facciamo un 4-4-2, eh? Eh? Va buono? Dai, forza! Lei che sta facendo qui? Eh, sto giocando. A giocare? Eh. Mo' mi hanno detto che il locale era chiuso. Vabbè, io sto giocando solo su, ubicati. Non si può stare qui, dai, forza, su. Scusa, perché non si può stare? Io sono un cliente, non posso... Ma lei chi è? Come si chiama? Mi faccio vedere i documenti. Ma che c'è di... Eh, sta a fare lo spiritoso. Ma che spiritoso? Si sto giocando, eh? Non si può stare qui, qua stiamo facendo un controllo di polizia, lo capisci? Ma che c'è? Ma che c'è? Non vado a capire. Guarda che stiamo a parlare con un pubicolo ufficiale. Sì, ma lei che alziano? Ma c'è un oltraggio. Ma che oltraggio, ecco? E per me, ce la c'è? Eh, sì, c'è due. È avva, eh, che c'è due, mette. Ehm, appuntato, ora me la vedo io, va bene? E tu, ecco, voglio dire che le vle bene, ecco. Va qua. Ci manca. No, io che so solo una. Hai sentito, ma che? Allora, va bene, va bene. Ma vincere la testa di Saramma, va. E va bene. Sì, da nando, va bene, caracolo. Ah, uè, caramato, tu! Allò, Nino? Dei. Qual è la novità? Questa è chiara. Davide, tale è quella quella di l'antifurdo della macchina. Premo? Se non va a guidare il poker. Bella, eh? Oh, prova a premere di nuovo. Prova, Nino. Beh? Non si succederà. Nino, si capisce? Se la maledà, se pensi che questo è il telecomando, tu ci faccio vedere che non è cosa. Non c'è un primo arretto, non si succederà. E' perfetto. Ma qual è la novità? Io non me lo soffrono come se. Non mi ha dato l'adequato della carrossa. Vabbè. Non soffrire la sivarà. Vabbè, già. Vabbè. Allora, vedi. Posso? Allora, vedi. Pino, apriva bene, maresciallo. Non l'attengo, l'acchia. Mi accendi, dai. Sta bene. Maresciallo. E tu, è salato? Maresciallo, vado a vedere la storia. Da voi, dipende. La verità, maresciallo, è che quei tre videogiochi che stanno lì davanti, quelle stanno le sigarette dentro. Maresciallo. Maresciallo, si è tutto a dormire. Lui dovremmo fare gamba. E vabbè, significa che stasì ce ne andiamo tutti a dormire presto, eh? Sì, vabbè, 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 vabbè. E io non so l'ho mai chiede. E io ero sto l'ho mai chiede. Ehi! Ehi More, la parola un po' per me? Vabbè, vabbè, vabbè. Ehi More. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. mi piace, vedi che mi hanno fatto la multa nella piazza della prefettura e tu non sei la prefettura ti va a fare? e so capire che tanto la cazzo non è proprio a me invece di fare la multa e ma che sono tutta la prefettura questo? ma te come ti hanno visto tutti da me? tu non vuoi andare? e ora ci fai a pagare vuoi sentire caro armato? ci sono tutte le 100 milioni per la parte ma non ne ho fatto la 100 milioni per la parte e tu sei e tu sei e tu sei il principio, che cazzo? se ti hanno la mano proprio a me poi oh, nessuno è proprio a me vabbè morì oh un seno non sei garcana quando sei il principio, mi piace la campagna mi si fa oh, salut ma canna non sei garcana con la multa su ma ne sei un po' la chione sei un po' la chione c'è qua è un campagna ma, il gioco mi arriva a te? se no, non sta bene ma oh, salut ma canna ciao caranè ciao ciao la multa è tua ti ha armato il cazzo ci sono tutte le 100 milioni cazzo non frega a te ci sono bellissime cazzo non cuore che aveva haags ragazzi che pezzi è parsley che fa le danna che che Ho! 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 Ma? Ho! 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Bon, oh, oh, oh! che c'è lì, ecco lei ma io stai facendo la capata anche tu cacchi tra bordo tu sei città o no? sui appassuti madonna cosa mi piace? mi piace cosa? mi piace, mi piace ma tu sei andato a coda? a c'è? a c'è, a coda ma o cacchi tu vai a cacchi lo scondo a te ma si vede il baschetto in Uffri sopra la schietta avvastati già a me, vatti in a casa, ti do e questo, e tu che chiedi a me? come tu è me? io che ceci ho fatto, quando ho chiuso la base d'Italia se credo che sono qui e non sono qui se quando ho chiedi a Milenzi abbassato il calzone non c'è chiaro? ma non lascia la perda a coda con lei ma io non voglio capire tu non mi capire, sa bene, ma sta sempre a costa sta sempre aspetti, qual è? beh, sa bene ti faccio passare 5 minuti, sa bene sono qui, non sono qui bellissimo, il suono mi piace da 5 minuti non capisci che c'è un po' ma io non lo so, c'è un pilota sta ticci vedi che sei venuto per carabinire eh ci sono spiegato la scala da una macchina di nanzana e qui non c'è ancora niente e ci sono ancora niente e c'è effe? mi piace ad aprire? e ora vado, come è? hm oh mi piace ad aprire la scala la catatò la bu ho 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 e siamo da metroponi scorsi, vole mondri, capitaci Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey. Oh, Sabe. Stand on. Oh, guys. How we? He's got it. Why? Oh, he's got it. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Sabe? Oh, my God. No, brigadier! Brigadier, per piacere, state fermo! Non fate così, brigadier! Non aprite! Qui non c'è nessuno! Questo è un semplice armadio! Armadio, armadio! Aprite! Polizia! È uscita una volta! frygur! Sì, pero la água, ihrer! È un mare. È un mare! Vai� a cauta! Vedi? Sembra che a poche, tu. Che c'è la pazzesca, tu? Ma c'è la cazzatura, tu? Oh no! Sei proprio un figlio di patana. Ci sono scherzi da fare, chissi. Bellissimo. Ritambaccioca. Dino d'accordo? Ritambaccioca! Avast! C'è l'aventura? C'è l'aventura? L'aventura per noi è un'altra cosa. Ma è il mio? Eh, che c'è la mia vita? E c'ho cazzo tutta la dippa a chiesto cazzo di cose. Sì, ciù ti sa bene. Ha ancora la vita tagliata o c'ho cazzo di telefoni che ha fin. Mi vieto voglio, mi vieto. Vienti. Che c'era? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sta fai? Come è? Pacell'acca nasata ne co? Cittina l'acca? È l'obbluso per te. Arrivedo caffè, vorrei. Chi è? Piengare invece te nani? Sì, ma te piace Valentin. Sì, ma te piace Valentin? Se ci bravi, io ti chiedi, mi salgiamo. Aspì, dov'è andare? Aspì, dov'è andare? Aspì, è stata ferma. Aspì. Trini. Sì. Aspì. Ma che buona parte di chi è? Aspì. Beh, ora fin si è bacchiato. E ogni giro c'è giusto di farlo, si è capace di ammazzato. Ma Mari, li siamo scattati proprio. Più schemi, ti hanno ancora la mano che non vuoi smogli, non so come te. Pasqua ci ha dato una stampata in gula, io non l'ho fatto voler. Il madrello dove sta? Sta, Mari, sta. Oh, come te? Che problema sta, Mari? No, lo vediamoci. Beh, lo dà a fare, Pasqua. Vieni. Beh, fai tu lo pezzo. È tutto così a fare? Tu non stai affascinando, ma fai lo pezzo. Dino questo caffè, no. Tu da stamattina stai affascinando. Ce l'hai scattata qui. Ci si scatta, si parlate slow, ma l'ha capdi ha scattenato di qui. Lo so scattati. Ciao! Beh, fai tutto! Sì, 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 no, vado a fare una cosa a te. Chiamiamo un uesco! E non puoi fare un uomini! Beh, tanto, Mari, mi piace, eh... Niente, ciao! E tu arrivi l'uomini da voi. È lì, devo fare un uomini. è stato fermo con le mani, mi piace va bene non ti piace un bambino va bene, va a lavar la faccia, che deve rubare vai a lavar va a lavar mi stanno venendo con faccio un bambino attenzione è stato fermo è stato fermo voi potrò Orso? Non mi piace Ehi, Mignolet, ci sta a fare? Ci sta a vincere o ci sta a perdere? Ci sta a vincere, ci sta a vincere, ci sta a vincere, ci sta a vincere! La razza è tu! Oh, sapetevi, vi c'è la chiude, che sta a vincere! Buonasera. Senta, per cortesia, sono la moglie di Amoruso Emanuele. Lillino, mi fate uscire mio marito e dite che sta Nina fuori. Scusate, voi non avete visto che il locale è chiuso? Sì, l'ho visto che è chiusa. Senta, per cortesia, mi fate uscire mio marito e noi ce ne andiamo a casa. Signora, a parte il fatto che è tardi, stiamo in chiusura. Non vedete la sera? Sì, l'ho visto, ogni sera sta baciata la sera cinesca. Sì, io abito qua di fronte. Luca è adesso, che mi conosce per te. Ma io sono qui. Abbassatevi la voce, signora. E non che me lo dite voi, lo sapete. Allora, io abito qua di fronte e lo vedo entrare e uscire ogni sera. Questa è l'arte che fa mio marito. E io non ce la faccio più, non ce la faccio più con questa scuola. Ma senta, senta. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. E qua dobbiamo passare la sera. Guarda, faccio la voce. Io dormo, non mi muovo, Giovannò. Ma non vogliamo stare tutte le ragioni che vuoi. Madonna, non ce la faccio più lì, va bene. Giovannò, fa passare. Tu, ma ti fa passare, va bene. Allora, non ce la faccio più. È finito, ma ci sta faccio più. Signora. Lillino. 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 Ciao, Barbara. Se le veste, voglio stare n'è il. Ciao. Scriviti al dottor. Scriviti al dottor. Lillino. Grazie a tutti Grazie 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 Dice la dottoressa, Pippa, prego, si accomodi, questa è la casa di cura, no, no, la dottoretta, la me, purtroppo la tia, la me. Mi ha detto, puse, pare, che siamo arrivati, ora voglio dire che c'è una blanda, non perciò la servfire, se volete a cuoli, non mi faccio, e mi raccoglie, ma non si managgia, ma quindi, da te, no, non mi piaccia, tutte le tene. Buon bestiale, è lei. Ma che ha giusto questa barcer konaccia? Mare in casa. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, bella. Bella sabene, fù. Ah. 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 Ah, bella. Ah. Ah. Ah, come si. Sabè? Ma come si? Ah. Ma giù la capa. Ah. Beh, laù? Non è no. Ah. 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 Fai ma vanno tu irei por a me. Ah. Speed. False. Pante assi. Modificare o otappe o tuero. Buona. Posoth o tuero negozi. Competir un �boatmoni. Posoth MICHAEL. astically. Ved. Provodie. Avcut. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.